Eccomi, allo stesso punto di prima Arrivo C'è quello di coprirmi? Riusci a ammazzare neanche uno davanti a te? Ti nascondi? Sì, dimmelo un po' più ad alta voce Prego, tutto tu Scusa, ce n'erano un pochino Cioè, è che devo proteggerti da solo, sempre Via Dai, che cazzo stai a fare? Taglia tutto e basta Non è che sono sopra di noi, sono di fianco noi Droni Troppi droni, oh Anche se muoio, muoio Sono morto Perché non mi dà l'atterramento? Vai 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 sul vito Andiamo da Taylor Mamma mia quanto guido bene Perfetto Tanto so che ci sarà solo maretti Sarà una bella nuotata Eh, trattieni un po' il respiro Che? Ah mo' ho concierto tutti sulla mia voce Sì, sì Ho sentito tante volte questa cosa Che? Coraggio Respira Bene Bene Sintomi di cosa Credo che l'IA di quel progetto possa introdursi Anche nei sistemi organici Passando per la DNA Nata all'interno dei soggetti Ora è dentro tutti voi Assume lentamente il controllo Portandovi alla follia Quanto ci vorrei? Forse giorni O forse ore Sembra un sistema distribuito Una Mente collettiva Che si espande con le esperienze di tutti gli infetti Consumandolo Ascolta In qualunque modo funzioni Qualunque cosa voglia Sono un colino C'è anch'io Necessario Farò quello che va fatto Proveremo un altro modo Senza coinvolgere i militari Senza la CIA Ci nasconderemo da qualche parte In un luogo sicuro Ti prego Ora ascoltami Resta con me Ah va Mi fico un proiettile in testa Cos'è trova il segnale? Vediamo movimenti verso di voi Ok Di qua Armi pronte Se Pronte Con me Sono qui Porca troia E da dove? Dal punto di partenza Come non ho granate E la madonna Che cazzo Sono bloccato Aiuto Aiuto E alzati Che cazzo Mi stava bloccando Vabbè L'unica a fare così Via Via Di qui Via Oh porca Salta su Salta su Non possiamo far esplodere tutto Fallo Dall'alto Dal basso Avrete il nostro supporto Arrivano altri velivoli NRC Non devono avvicinarsi Alla piattaforma Tranquillo Ci penso io Eccoli Contatti nemici In arrivo Ok Qual è la modalità In cui non posso fare un cazzo Grazie Mi vedo anch'io Attacco Non riesco a far esplodere Il segno è alcanciato Arrivano Missile lanciato Dai vai vai Ancchio al fuoco Delle unità terrestri Voi vengono avvicinamento Voi vengono 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 Uno in meno N source Vengono Con Verbo su di te Intanto prova a intercettare Vengono Vale Vengono Mi 656 Non rispondo perdite Vengono sek E un sub Vengono Abbattito Vengono Ok, vai, vai, vai Ancora li hanno ritostruiti Che cazzo Ho visto un corvo Che cazzo, li stanno schiacciando come? Perché compare un corvo? Un mucchio di corvi? Ok, abbiamo la sala di controllo Ci siamo, li trasmetto subito Andami subito il feed Ancora Troppo tardi, se ne sta andando Aspetta Quando funzionava questa piattaforma era un obiettivo dei pirati I protocolli di sicurezza prevedevano la fortificazione e l'isolamento delle zone chiave in caso d'attacco Sigilla tutto Khalil, fallo subito Prima facciamo un po' di piazza pulita, va là Prima facciamo un po' di piazza pulita, va là Attentione, scusa Ma hai, vai, vai Abbiamo un po' di piazza pulita, va là